un saluto a tutti da snowgills e ben ritrovati in un nuovo video su super mario 3d world eccoci qua nel mondo 4 e dovevamo proprio essendo appena arrivati farci il primo livello ora questo tunnel dove porta porta di qua dove non c'è un bel nulla per il momento non c'è niente torniamo qua e ce ne andiamo al primo mondo una scalata verso quel vermone che vediamo lì usiamo mario sperando se il personaggio giusto ecco qua subito transformation in gatto ah non si uccidono saltandoci sopra interessante di qua ci sta ok per il momento niente a quanto pare anche se niente vabbè entriamo qui quando ci sono tre mattoncini c'è sempre secondo me qualcosa d'opera e invece no ok allora andiamo di qua ci facciamo fuori tutti e lì sopra c'è il timbrino timbrino e arrampicata niente perfetto andiamo di qua qui qualcosa di invisibile è nascosto la stellina questo non lo affronta proprio non lo affronta proprio non si possono uccidere a quanto pare questi cosi ma si può saltare sul capoccione e possiamo andarci a prendere questa stella e andare via perfetto in ora facile questo livello non cantiamo vittoria troppo presto sappiamo bene poi come va a finire per esempio che non si riesce a beccare oh mi sono messo a parte anche un'altra a posto ok devo rimanere in equilibrio sulla testa di questo coso quanto pare ci sto riuscendo egregiamente ma no qualcosa è andato storto sono sicuro dobbiamo secondo me lì sopra entra qualcosa no 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 va bene lasciamo stare lasciamo stare che già mi ha beccato ah figuriamoci c'è cosa andare col tubo tutto inutile abbiamo sprecato due campanelle ben due trasformazioni però due stelline le abbiamo prese quindi ok qui sotto tre monetine vabbè tanto non dà il one up quindi fa ben poco livello superato egregiamente con un po' di di titubanze perdita di di trasformazioni vabbè poteva far meglio ma si poteva far peggio quindi andiamo avanti vediamo se succede qualcosa lì dove c'è il tubo non accade nulla quindi dritti al secondo livello palude delle piante sefirana oh interessante andiamoci subito ah indietreggiano se colpite sulla testa ma nulla più ah se si spingono fino al tubo quindi sicuramente in quei tubi dove erano quelle piante soprattutto quelle a dormire c'era qualcosa no devi avanzare perché devo saltarli sulla testa no allora facciamo così sul muro no quanto fare no fail no mega fail abbiamo solo perso la trasformazione bandierina qua che ci dai che ci dai qualcosa ci dai invece non ci da un bel niente ah lì c'è qualcosa però lì c'è qualcosa ah monetini a go go timbrino e tubo andiamo a palla praticamente oh lo scoiattolo lo scoiattolo perfetto ma con questo direi che è abbastanza semplice dai dai ok presa la stellina se no e va tenere mi sto già infastidando solo l'ultima stellina presa con disinvoltura oh yeah va bene una sola stellina meglio che niente però chiuso in rapidità il livello chiuso in rapidità 41.710 punti sticker del tubo e let's go andiamo avanti eppure è stranissimo quel tubo lì qualcosa ci deve stare secondo me qualcosa ci deve stare oh la slot la slot allora l'unica volta che ho fatto l'unplay in sette vite con quattro simboli ero sulla light peccato campanella nooo nooo vabbè questa è stata pessima proprio pessima e la campanella era anche il più facile perché si vedeva bene il giallo vabbè di mattina non orrendo ok vediamo un po' il funghetto stavolta ci prendiamo quello grande ah peccato peccato era quello piccolo torniamo indietro back becchiamo e andiamo a sconfiggere questo pallettone roccia duello con i ruzzoli non c'è mezzo il magma no ti pareva ah vabbè buttiamolo fuori a posto facile potevo risparmiarmi di andarci a sbattere tranquillamente vabbè tanto all'inizio del nuovo livello una trasformazione la troviamo sempre anche se lo scogliattolo è parecchio parecchio comodo devo dire 58 stelle a nostra disposizione e si apre per noi un doppia strada ci facciamo prima questa con questi cubi invisibili una passeggiata spaziale ok ok perfetto non immaginavo che sparivano va bene ora sappiamo che questo bip bip sta a significare oh attenzione it's me va bene non si può saltare ora lo sappiamo bisogna aspettare che sparisce e saltarlo non facilissimo questo livello non facilissimo comprimiamo i Mario 3 Mario benissimo benissimo andiamo lì vicini no 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 fa tre bip ok tre bip ciliegine comprimiamo i Mario prendiamo questo coffo di monetine ricomprimiamo i Mario bip 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 ok abbiamo perso un Mario strada facendo stiamo per perdere un altro allora lì c'è la stella entriamo in questo cubo no dovevo prendere prima la stella no non lo sapevo pensavo fosse un bonus questo it's me qui che succede bandierina quattro ce li abbiamo solo il timbrino solo il timbrino va bene ok andiamo giù qui sotto niente ok allora per adesso diciamo che ci siamo uh andiamo prima allora sul cubo là sopra riprendiamo il terzo Mario no no che idiota potevo tranquillamente riammucchiarli invece per far salire il terzo qui dobbiamo prenderli tutti no questo è fatto per farlo in tanti niente stellina ci volevano ci volevano più Mario questo livello proprio da rifare ma neanche facile devo dire siamo siamo di qua ok 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 trasforma vediamo va bene è stato veramente pessimamente non presa neanche una stellina ma il livello è stato superato devo dire finora forse uno dei più più insidiosi più insidiosi ok speriamo che queste non stelline prese non compromettano più di tanto l'esito finale andiamo di qua altopiano salterino altopiano salterino allora quindi saltiamo qua saltiamo di qua ok si salta qui si cade anche di sotto se non si salta bene vediamo se c'è una roba qui no tutte 4 le stelle andiamo di qua niente nessun secret è anche una trasformazioncina niente ah vabbè ci ho provato non si può dire che non ci ho provato di qua un sacco di timer e questi ah si distruggono semplicemente facendosi mordere ma diventano molla così posso prendere ah prima stella quindi ci siamo per ora ya bandierina qua che ci sta ci vorrebbe una trasformazione da gatto per arrivare a prendere quelli vediamo se c'era da qui no invece ci da il fuoco ah un po' di monetine oh che colpaccio qui che cosa abbiamo oh oh stavo per cadere di sotto andiamo nel tubo perché no 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 seconda stellina andata e qui invece si torna indietro in giornata chissà dove è andato se n'è andata questa cosa no torna indietro dove sta andando c'è un percorso lunghissimo interminabile ragazzi per fare prima faccio così perché sennò quella cosa lì non torna più cioè immagino che facciamo lo rifacciamo e sicuro non mi rifà fare la stellina e invece si ok stavolta presa andiamo oh il timbrino è in mezzo a tutti quei cosi va bene ci proviamo ci proviamo ci riusciamo attenzione attenzione 10k perfetto qui due ne abbiamo prese la seconda abbiamo saltato va bene 31.970 gli sticker aumentano ci avviamo alla metà ci avviamo alla metà e 60 stelle finora abbiamo un tubo con un livello bonus andiamo nel livello bonus ma io devo investigare cosa c'è nel primo e lì secondo me c'è qualcosa di invisibile 10 stelle attenzione 10 stelle non abbiamo una trasformazione corsa contro il tempo che la conosciamo la corsa contro il tempo ok una ah questa è proprio una corsa 2 via questo mi ricorda molto crash bandicoat siamo diventati piccoli però ci siamo finora lì c'era qualcosa secondo me si poteva prendere da queste easy proprio poi mini mario lo vedo veramente rapido ok ok facile facile per ora per ora tutte facili ho sgommato no 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 dai no che ingiustizia sono anche troppo veloce potevo far più piano ok ce l'abbiamo fatta senza problemi excellent prese tutte ok ce l'abbiamo un attimino persi nel nulla perché comunque è semplicissimo allora andiamo al prossimo vediamo il prossimo abbiamo fatto una scorpacciata di stelle veramente rimane questo e il castello andiamo a vedere cosa c'è qui ah c'è questa storia ora ce la facciamo imboscata di fuoco brosquino 100 secondi perché mi sono fatto colpire con uno scemotto però il fungo da parte possiamo tornare al volo grandi non ci sono problemi ok quindi 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 mettiamo al volo il funghetto vediamo che livello ci sblocca lassù cosa ci sarà ah un circo non si può tirare il funghetto fuori dai livelli ma solo il timbrino piglio qua allora un altro timbrino sbloccato principata blu e usciamo senza alcun problema questo giro andiamo e andiamo di qua ok ci manca questo livello e il castello però si dilungherebbe troppo quindi per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un bel like un commento fatemi sapere cosa ne pensate io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao